Cominciamo questo nostro incontro con la parola che si fa carne nell'inizio dell'anno liturgico, prima domenica di avvento, ciclo anno C. Gesù è venuto, viene, verrà. Il brano è capitolo 21 di Luca, versetto 25-28, 34-36. E come sempre iniziamo con l'invocazione allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. Con Te solo a guidarci, fa che Tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori. Non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata, né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa che troviamo in Te la nostra unità, affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a Te, che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. Un cordiale benvenuto a voi qui e a quanti che ci seguono via web. Dopo l'invocazione allo Spirito, abbiamo una diapositiva che ci dice, è una provocazione molto forte, una richiesta che Gesù viene a fare a ognuno di noi. Mi fai entrare dentro di te. Noi abbiamo sempre un approccio mentale, logico, critico, razionale, virtuale. Vedete come è diretta questa provocazione, questa domanda. Mi fai entrare dentro di te. C'è una disponibilità? C'è una libertà di accoglienza? O il tuo cuore è già pieno di tante cose inutili? O sei sembrare indaffarato, preseguendo sogni che mai si realizzano? C'è obbedienza, c'è ascolto, c'è accoglienza. Diciamo che questo atteggiamento è quello che indica, significa, configura, connota questo tempo. Prima domenica dell'anno liturgico, prima domenica di avvento. Una predisposizione ad accogliere la parola che si fa carne. L'amore eterno del Padre che entra nei nostri cuori. La bellezza, la trascendenza, la santità di un Dio che ama essere l'Emmanuele. Il Dio con noi è per noi. E allora sì che questa domanda ha un senso. permetti che io entri dentro di te, non nelle tue fantasie, non nei tuoi sogni, neanche nelle tue preghiere. Dentro di te, te. Una dimensione esistenziale, concreta, che ha poco di riflessivo e di concettuale. È organica, è concreta, esistenziale. Questa prima domenica, ecco, di avvento. Avvento perché sta per venire colui che viene. O, e come, no, silveniente. Abbiamo in queste quattro domeniche la dominanza, ecco, di questo, veniente. Un participio presente che intica l'azione attiva, che si sta conviendo, si sta realizzando, nella misura in cui si è disponibile ad accogliere. Il problema dell'accoglienza, dell'ascolto, dell'obbedienza, è un problema reale, concreto. Stiamo, e stiamo, vivendo, una cultura di autoreferenzialità, fortemente piegata su noi stessi. Non siamo disponibili ad accogliere l'altro, il diverso. Allora ci accorgeremo come anche questa domenica avremo una dimensione descrittiva apocalittica per dire c'è bisogno di una pars destruens, c'è bisogno di distruggere, di annientare tutto ciò che non ha senso, non ha valore. Per accogliere l'ercome, no, silveniente. Per essere disponibili, per essere come Maria. Ma è come in questa fase di tempo, tempo liturgico, possiamo prendere come modello Maria, la vera cristiana, la sorella del cammino, del nostro cammino, quella che vive con noi il tempo e al tempo dà una risposta di eternità. Volevo cominciare con anche le altre due letture ma le faremo alla fine. Entriamo direttamente, ecco, nel brano evangelico. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attendo a voi stessi che i vostri cuori non si appesandiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita che quel giorno non vi piomba addosso all'improvviso. Come un laccio in vatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano la faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Parola del Signore. Glorie a te, come Cristo. Dicevo prima, abbiamo bisogno, ecco, di configurare questa pars destruenza per poter essere disponibili all'accoglienza del veniente. Dobbiamo vedere la nostra consistenza organica vitale e vedere come è frammentare, dispersiva e inutile per poter essere attenti ad accogliere, essere svegli nella preghiera per accogliere il dono di Dio. Ma, come sempre, entriamo nella lettura per versetti, parola per parola, per cogliere la ricchezza del dono che il Signore ci viene a fare. Ricordatevi che in ogni pericolo evangelico c'è un kerigma. Questo lo dovete sempre rappresentare, anche quando ci sono descrizioni di questo genere. Questo è il genere detto apocalittico. Noi diamo a questi termini un significato non reale, non corrisponde al vero. Per noi apocalittico significa la fine del mondo, la fine dei tempi, la fine delle cose, la fine... No, apocalittico significa rivelazione. C'è, è una letteratura che ci apre ad un novum nella misura in cui siamo disponibili ad eliminare il vecchio. E allora, vedete questa descrizione di due elementi significativi, no? Verranno segni nel Sole, nella Luna e nelle stelle. Il Sole è la stabilità. Chi di noi pensa che domani all'ora tot non ci sia il Sole, non c'è più il Sole? Chi di noi? Non riusciamo a immaginare. Ma non è il Sole che risplende perché è coperto dalle nuvi. Anche se ci sono le nuvi, il Sole c'è. C'è, possiamo immaginare la nostra vita senza il giorno? È il respiro stesso, no? Della nostra vita che non riesce più ad andare avanti se non c'è il ritmo circadiano, no? Il ritmo del giorno, della notte, giorno, notte. C'è il Sole in sé, oltre che a essere simbolo della divinità, delle divinità come stabilità, dà al tempo la stabilità, il ritmo preciso. è un qualcosa che dà una stabilità, una sicurezza. C'è un'espressione napoletana che traduce l'ansia della notte. Sapete qual è? Ad avassà nottato. Perché l'attesa del giorno è l'inizio di un'era nuova, è l'inizio di una realtà nuova. Noi mai immaginiamo che il Sole a quell'ora non sorga. Non possiamo concepire né tanto meno la Luna. La Luna è punto di riferimento anche di stabilità per i i viandanti, no? Per la navigazione, le stelle, la stessa cosa. Vedete come la vita degli uomini è profondamente condizionata da questi elementi che ritmano il tempo della nostra esistenza. E qui Gesù fa una provocazione terribile. Ci saranno segni, c'è cose straordinarie, particolari, che mettono in dubbio la sicurezza del Sole, la stabilità del Sole, delle stelle, della Luna. Si perderà l'orientamento, non c'è più un orientamento stabile per cui l'uomo entrerà in una dimensione angosciosa per i flutti per i flutti del mare. Perché non essendoci il ritmo equilibrato di un cammino stabile, anche il mare perde la sua continenza e stabilità. vi saranno segni nel sole nel sole, nel sole, nell'alone e le stelle e sulla terra ci sarà l'ombra dell'angoscia e della morte, lo smarrimento totale. Perché Gesù usa questo linguaggio apocalittico? Perché sta per rivelarci un qualcosa di straordinario. Quando i cristiani hanno tra tutto questi passi come è arrivato allora, Dio si è stancato di noi adesso manterrà dei segni per distruggere questa umanità e la fine del mondo, non ci correte dietro a queste cose. Apocaliupto significa rivelazione e in questo contesto di profonda angoscia e di grande smarrimento c'è la rivelazione ecco del tempo nuovo, di un'era nuova. Per noi tutto è regolare, tutto è normale, tutto è stabile e di nuovo non c'è altro che non la noia, l'abitudine, la consuetudine. Abbiamo perso il senso del nuovo, della novità perché perché ci siamo a suoi fatti e allora all'inizio di un'era nuova, di un tempo nuovo, di una presenza vera fammi entrare dentro di te di una permanenza esistenziale concreta di un Dio verso di noi. Noi ci hanno rovinati i filosofi, la metafisica ci ha rovinati, ci ha portato ad una esperienza di fede basata sulla concettualizzazione, concetto, concetto catastrazione, invece qui ci sta, vedete, una incarnazione, niente più concreto della incarnazione. Noi ci prepariamo a questo momento straordinario, significativo, no? Della nostra esistenza, dove l'eterna si ingarna nel tempo e fa scoppiare il tempo perché si apre all'eternità. Ma tutto questo noi lo viviamo è che in una dimensione così dolce, sofferto, casomai. Cioè non entriamo in questo fragore dei flutti del mare. Stiamo lì, che passa, eccola, e arriva la quiete. No. Arriva il tempo nuovo e mai come in questo tempo si sta verificando un cambiamento. Mai come in questo tempo. pensate un poco che cos'era l'annuncio che Gesù diede della distruzione del Tempio. Una dimensione straordinaria, meravigliosa. Questa costruzione dorata, ricca di marmi, bella, veramente bella che lasciava così ingantate tutti quelli che la guardavano. E c'erano gli apostoli a contemplare tutto questo, a vedere felici, contenti, perché? Perché Dio abitava presso quel Tempio. Ricordatevi della Shekinah di Dio, no? Per il popolo di Israele il Tempio era un punto di sicurezza e di stabilità, come il sole, come la luna, come le stelle. del Tempio. Il Tempio configurava quella che era la storia di quel popolo e questo popolo si rivolgeva a questo Dio con i sacrifici, con la ritualità, con l'osservanza delle norme. E Gesù annuncia a queste persone che avevano fatto del Tempio e di Gerusalemme il punto cruciale della loro esistenza umana, storica e trascendente. Gesù fa un annuncio di questo genere, di questo che contemplate, non resterà che pietra su pietra. Ma la stessa Gerusalemme, la città di Dio, nessuno, mai un ebreo avrebbe potuto pensare che un giorno sarebbe caduta, le munizie sarebbero cadute, no? Sarebbe stata devastata. Non era proprio concepibile. Ne va di mezzo la fede di questo popolo, una fede anche molto forte e che traduce questa fede in una religiosità ritualistica che non riesce più a superare quelle che è la sua dimensione di un sentimento religioso tipicamente umano. Non riesce a superare. E quelle che noi oggi stiamo vedendo anche nella Chiesa non riusciamo a superare certe forme, ci smarriamo la vita religiosa e infatti in un certo modo vai a uscire dagli schemi la parrocchia la parrocchia la diocesi la Chiesa non ci rendiamo conto che questa dimensione che è tipicamente sostenuta dello Spirito è diventata troppo mondana è diventata si è lasciata consumare da quelle che è il tempo c'è bisogno di una distruzione di Gerusalemme c'è bisogno di una distruzione del Tempio di tutti i nostri Tembli che ci siamo costruiti per celebrare ecco le nostre liturgie che sono poco liturgiche ma sono solo ritualistiche che sono solo devozionali pochi sentimenti espressioni della fede di un popolo c'è bisogno c'è solo annuncia e si vede come in ogni tempo c'è questo passaggio mentre gli uomini moriranno per la paura e per la tesi di ciò che dovrà accadere le potenze dei cieli infatti saranno sconvolti cioè ciò che regola l'ordine delle cose subirà questo sconvolgimento ma dobbiamo ancora aspettare qualche cosa cioè dobbiamo ancora aspettare che succeda qualche cosa non ci rendiamo conto che stiamo ecco veramente in una perfetta tempesta dell'esistenza della storia dell'uomo che altro dobbiamo vedere che altro dobbiamo incontrare saranno sconvolte le nostre sicurezze le nostre devozioni le nostre cerimonie le nostre ritualità saranno sconvolte saranno sconvolte e dopo di che dopo di che qualche dono griderà la fine vedete allora il kerig ma l'annuncio che arriva versetto 27 allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria è qui che c'è la grande rivelazione quella che è apocalliupto no? togliere il velo scoprire scoprire la presenza di Dio nella storia ologos sarx egeneto la parola il verbo si fa carne entra nella corruttibilità della storia dell'uomo entra nella dimensione più concreta dell'uomo che è il passaggio del tempo ma a questo passaggio e a questa precarietà viene data una stabilità allora vedranno bello no? oposontai vedranno che cosa questo figlio dell'uomo veniente ercomenon ton ercomenon si vede ecco questa questa venuta no? questa venuta che supera il tempo e dove va? fammi andare nel tuo cuore fammi andare nella tua vita questo Dio che bussa i nostri cuori e noi che siamo talmente saturi ecco come gli oli saturi siamo pieni di tante cose inutili non siamo capaci di fare un posto di aprire tutta l'architettura delle nostre vuotaggini ma l'abbiamo visto storicamente per loro non c'era posto in albergo no? vi ricordate? se Cristo oggi bussasse la nostra porta saremo in grado di accoglierlo? o abbiamo le nostre cose da fare? ma noi siamo invitati a guardare ecco guardare diritto guardare in alto quando cominceranno ad accadere queste cose è bello questo verbo qui vedete risollevatevi e alzate il capo anocchi psate è lo stesso verbo di quella donna piegata su se stessa no? che Gesù la raddrizza cioè schiacciati da quella che è la storia con greda del tempo che viviamo piegati attrappiti da questo peso della storia ecco Gesù ci viene a raddrizzare la schiena state ritti state ritti risollevatevi e alzate il capo non appesantite sul collo dagli affanni della nostra esistenza ma risollevate il capo è un annuncio meraviglioso questo c'è una straordinarietà in questo annuncio che ci fa passare da quelle che è l'angoscia per i flutti del mare che per la paura di quella che sta per accadere moriamo ci fa entrare in una dimensione di vita risollevatevi state ritti è segno di risurrezione segno di vita perché la vostra liberazione è vicina scendiamo un po' più concretamente nella vita che cosa ecco ci tiene prigioniere ci tiene sovraffatto ci tiene perché da che cosa noi dobbiamo essere liberati se ci sentiamo liberi o libertine di fare quelle che vogliamo di che cosa dobbiamo essere liberi dall'ombra della morte dall'ombra della morte che ci fa chiudere gli occhi e non vedere più niente risollevati alzate il capo state ritti è come dei risorti perché siamo risorti perché noi siamo pronti ecco ad accogliere il veniente siamo disponibili avremo un cammino ecco dicevo di quattro settimane saremmo preoccupati a fare l'albero di Natale a mettere le luminarie non so saremmo preoccupati di questo di essere l'ascolto o di essere l'accoglienza dove dove troverai il luogo per poter entrare state attenti a voi stessi proseghete state attenti che i vostri cuori non si appesandiscano il cuore è il centro della vita un cuore appesandito un cuore ingrossato non ti far respirare bene e che cosa può appesandire il cuore le dissipazioni proviamo a immaginare in modo organico che cosa sono le dissipazioni lo sperpero qui parla di crapule no crapule c'è quella avidità che l'uomo ha nel voler dominare tutti e tutto facendo di perdere ecco quella dimensione anche di semplicità di accoglienza ubriachezze i fumi ecco di ogni sorta di droga non solo anvetamine robe di questo genere la droga che ci smarrisce facendoci perdere la nostra identità provate a vedere la nostra vita la vita dell'uomo di oggi è un drogato ma non diciamo di barbiturice non so di che altro per la sua esistenza è un drogato di fretta mille cose da fare centomila da pensare non avere la capacità di una relazione serena tranquilla con i propri figli con la propria moglie col proprio marito questo correre enormemente cercando che cosa ma che cosa obbligandoci di sogni e di immaginazioni e poi corriamo dietro a quelle che è la vita gli affanni i vostri cuori non si appesantiscono da queste cose ma siano liberi per accogliere e che quel giorno non vi piombe addosso all'improvviso vi facendo dire impreparati all'accoglienza si abbatterà su ognuno di noi ecco quel giorno di essira il giorno dell'ira che abbiamo fatto tanto di quelle traduzioni quel giorno tramento quel giorno che è il giorno dell'incontro della suggestione della bellezza quel giorno si abbatterà sopra di noi come un laccio il laccio è una trappola che ti soffoca una volta che ti ha preso ti strozza ti tira soprattutto i coloro che occupano che abitano ecco questa faccia della terra e allora qual è l'atteggiamento più semplice e più comune di essere svegli eh di avere gli occhi aperti la schiena dritta no per poter noi incontrare vedere quando arriva il veniente vegliati in ogni momento pregando e anche qui in questo tempo non è moltiplicare le nostre orazioni vegliare pregando significa avere nel cuore una trepitazione per l'incontro di colui che viene questa è la preghiera non è che moltipliciamo le formule dedichiamo il tempo così di chissà quale contemplazione di noi stessi no è vivere è vivere un'esperienza di trepitazione perché perché si è nell'incontro si è nell'attesa perché abbiate la forza di sfuggire tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo ci togliamo tutto ciò che ci appesandisce il cuore costringe il nostro animo no a perseguire sogni inutili ed essere pronti per il giorno dell'incontro essere pronti vedete è bello questo manifestarsi al figlio dell'uomo tempo di conversione tempo di accoglienza tempo di sinodalità e leggiamo allora anche le due letture la prima lettura che tratta dal profeta Geremia vedete come ci prepara bene questa lettura ecco verranno giorni nei quali io realizzerò le promesse promesse di bene fatte alla casa di Israele alla casa di Giuda e questa speranza che noi dobbiamo accendere dentro di noi che è certezza dell'opera di Dio nella nostra storia realizzerò cioè renderò vere concrete attuali quelle promesse fatte promesse di bene fatta alla casa di Israele in quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto perché ecco un germoglio giusto la giustezza delle cose sta nel fatto che le cose diventano quello che sono un germoglio è la vita che viene generata giusto perché genera realmente la vita un germoglio che non genera la vita non è un germoglio sono falsi in quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra guardiamolo bene queste due parole eserciterà il giudizio cioè porrà ognuno di noi nella giusta causa perché cosa siamo stati creati per amare Dio e per sperimentare l'amore di Dio e questo amore di Dio si diffonderà su tutta la terra in quei giorni Giuda sarà salvato Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia Gerusalemme una volta abbattuta distrutta annientata la Gerusalemme che uccide i profeti e su cui Gesù ha pianto perché ha visto come la sua vocazione e la sua giustizia è stato completamente travolta da quelle che è la religiosità dell'uomo pensate un poco quelle che si fa inorgoglire ha portato Gerusalemme la sposa la signora ecco giusta l'ha portata a una dimensione di Babilonia e ancora leggiamo anche un brano della lettera di Tessalonicesi fratelli il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti bello questo no il Signore vi faccio sperimentare altra che flutti del frugere dei frutti del mare altra che la distruzione Gesù viene a portare vedete una dimensione profondamente dell'uomo al di là di quelle che sono le ritualità al di là di quelle che sono le nostre divinità viene a dare un senso un cuore a quel rito che è l'amore come sovrabbondo il nostro amore per voi per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi Santi per il resto fratelli vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché come avete imparato da noi il modo di comportarvi il troposso dello Spirito e di piacere a Dio così già vi comportate possiate progredire ancora di più voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù quali sono queste regole di vita il troposso dello Spirito Santo come sta diventando significativo e forte questo tempo di sinodalità dove si comincia a pensare che il vero protagonista di tutto questo è lo Spirito Santo e fare questo passaggio da un troposso dell'uomo della vita secondo la mentalità del mondo che è fortemente commerciale economica ad un tropos dello Spirito che è fortemente graduito e donante e liberante e santificante com'è fondamentale questo passaggio e questa è la conversione che oggi oggi noi qui siamo a cui siamo chiamati questo passaggio del tropos dal modo di essere dell'uomo che è basato su se stesso sull'accaparramento delle cose degli altri a quelle che è il dono plativo è gratuito dello Spirito quando cominceremo noi a vivere secondo lo Spirito che abbiamo ricevuto nel Battesimo ma che dobbiamo fare chissà che altro quando cominceremo a vivere si parla di sinodalità di tutti stanno cominciando a parlare siamo arrivati al punto in cui ognuno dice ma che cos'è che cos'è sinodalità è uno stile per abitare questo mondo secondo lo Spirito questa è la sinodalità e chi porta amante questo stile questo stile di vita il mondo ma il mondo c'è i suoi dei i cristiani e allora qui comincia un lavoro che si chiama discernimento questo è il vero ecco carisma no questo discernimento vedere lo Spirito cosa dice alla Chiesa è come complicato è difficile mettere in discussione se stessi si è fatto sempre così siamo proprio bene così abbiamo fatto tanto per fare così noi stiamo soffrendo vedete veramente le doglie del parto non riusciamo a guardare l'unico vero protagonista della storia che è lo Spirito Santo non riusciamo a superare la ritualità di Gerusalemme degli ebrei non riusciamo ecco a superare la nostra ritualità cominciando a guardare lo Spirito con occe completamente nuove e diverse è il protagonista noi che l'abbiamo messa da parte l'abbiamo considerato come si dice meno abile diversamente abile nella nostra esistenza perché dovevamo fare con le nostre forze è arrivato è arrivato il tempo in cui lo Spirito prenda possesso dell'uomo è arrivato il tempo in cui si fa spazio e l'amore di Dio venga ad abitare la nostra storia la nostra esistenza e allora sì che possiamo pregare come ci insegna la Chiesa no? la colletta Padre Santo che mantiene nei secoli le Tue promesse rialzi il capo dell'umanità oppresso da tanti mali e apri i nostri cuori alla speranza perché sappiamo attendere senza turbamento il ritorno glorioso del Cristo Giudice e Salvatore che vive legna nei secoli dei secoli Amen Apriamo questo cammino incontro al veniente con una disponibilità unica Dice Signore fai di me quello che vuoi Ah fai di me Cosa bella non mettersi veramente nelle mani di Dio per poter cantare e esultare per la sua gloria e come sempre vi ringrazio per l'attenzione saluto cordialmente voi qui tutti quanti ci hanno potuto seguire via web ringraziandovi di cuore di tutto per vivere questa grazia vi porti a vivere questo tempo il tempo il tempo trepitante dell'incontro dell'attesa per l'incontro viviamo questo avendo un avendo molto bello e molto importante in un tempo di vero grande cambiamento della Chiesa preghiamo come sempre Maria la nostra compagna di viaggio la nostra sorella come dice San Clemente Clemente Alessandrino la nostra sorella e vedendo lei seguiamo le sue orme nell'ascolto obbediente accogliente della parola che ci fa essere un dono per gli altri ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della morte amén il Signore sia con voi e benedica Dio Anipotente Padre Figlio e Spirito Santo amén benediciamo il Signore benediamo grazie a Dio e buona domenica